I pastori è una lirica di Gabriele D'Annunzio contenuta nell'Alcione, terzo e più celebre libro della raccolta laudi pubblicata nel 1903. L'ultima parte dell'Alcione è un'elegia di fine estate che passa lentamente nella dolce malinconia dell'autunno. Ecco, ricordiamo che in epoca medievale e moderna l'elegia è un componimento di vario argomento o una poesia di vario metro e persino prosa caratterizzati dallo stesso tono sentimentale meditativo e malinconico dell'elegia classica. In questa lirica il tono malinconico scaturisce dal ricordo mitico e favoloso della gente e della terra natale del poeta, l'Abruzzo, in cui D'Annunzio ha trascorso l'infanzia e con cui dimostra di mantenere un profondo legame affettivo. I gesti lenti e ripetitivi dei pastori sono l'emblema di vicende che si ripetono sempre uguali di generazione in generazione, legate alla terra e alle stagioni nell'ambito di un paesaggio naturale primitivo e incontaminato. Il ritmo della poesia è lento e pacato, scandito da pause per dare l'idea di una nostalgia e di una pace antica in cui il poeta vuole immergersi completamente. La transumanza, infatti, non era solo uno spostamento di greggi dai pascoli estivi a quelli invernali, ma anche l'incontro tra antiche tradizioni e usanze diverse. Era legata a leggi e regole non scritte rispettate da tutti e i pastori, dopo aver attraversato fiumi e valli con i loro greggi, tornavano sempre arricchiti di esperienze e di conoscenze. Il poeta si sente pienamente protagonista della vicenda dei pastori, cosa che si comprende sin dal primo verso in cui è presente il verbo alla prima persona plurale, andiamo, e la sua nostalgia è la stessa dei pastori costretti a lasciare le loro terre. Il coinvolgimento emotivo del poeta si esplicita poi pienamente nell'ultimo verso con l'interrogativa retorica a perché non sono io coi miei pastori? Il paesaggio è un elemento centrale di questa poesia, continuamente sospeso tra acqua e terra, due elementi tra cui il poeta cerca di stabilire una forte connessione per sottolineare che la natura è un tutto omogeneo con cui lui stesso si identifica in linea con la sua concezione panica. Ricordiamo che il termine panico riguarda la natura concepita paganamente come forza vitale e creatrice, causa di sgomento e insieme oggetto di ammirazione. Se nella prima parte della lirica sono descritte soprattutto le azioni dei pastori e dominano i verbi di movimento, quindi andiamo, migrare, vanno, scendono, nella seconda il protagonista assoluto diventa invece il paesaggio, con gli elementi visivi che si mescolano a quelli sonori, ad esempio erbal, fiume silente, il tremolar della marina, il sole in bionda, isciacquio, calpestio, dolci romori. A livello lessicale vi è un alternarsi continuo di vocaboli dotti come vestigia o esuli, neologismi come erbal e isciacquio e termini dialettali come avellano. Il tremolar della marina, al verso 15, è invece una citazione dantesca. Molto bene questo è tutto, spero che questo video vi sia utile, vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi, alla prossima!